Oh la pistola nuova di tesla! Ho le armi laser fighe! Io prendo un po' di abilità nuova intanto Wazunde! 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 Vai! Mech! Lo prendo io perché sono messo malissimo di vita Fugginazzo! Madonna quanta gente! Posso spostare il tuo amato mouse? Sposti il mio amato mouse che mi ha regalato lei con mille mila euro C'è quel mouse è troppo lucicoso Secondo me c'ha poteri ipnotici Non so perché regalo ogni giorno 100 euro all'assistente Era quando mi ha regalato quel mouse C'hai messaggi subliminali No no la scritta regalami 100 euro Ah era quella ok ok E' la marca del mouse Allora salve a tutti sono TheLongamer e benvenuti su un giochino strano Ti sei convinto perché l'hai detto in modo molto Cosa? C'ho mal di gola C'ho mal di gola Ho parlato tanto Dico sacco di stronzate io E benvenuti su un giochino strano Allora mi è arrivata a stare la chiave di sto gioco E vabbè lasciamo stare L'ha visto l'assistente E ha detto tipo Lo devo giocare! Dillo come lo diresti tu Cosa? Comunque proprio lo devo giocare con No ci sarebbero tante Bip in me E quindi abbiamo detto vabbè facciamoci una co-op veloce Il tipico giochino in cui ti sfoghi tantissimo Devo contarci! Ok appunto è meglio Praticamente c'è Tesla che ha inventato quella bobina elettrica lì famosa che vedete lì a sinistra C'è Lovecraft invece che è posseduto da Cthulhu Che è quei tentacoli che è praticamente il nonno di Slenderman da quello che ho capito Cthulhu E... Grazie alla tecnologia di Tesla che li sta cercando di rubare Sta evocando Cthulhu in tutta la città E Tesla lo deve fermare Credo che più o meno abbiamo capito così Abbiamo fatto un attimino di tutorial Vi facciamo vedere magari una cosina veloce Saremo con delle invenzioni fighe di Tesla che sblocchiamo ogni volta Allora io sono il bluh Allora la barretta che vedete attorno a noi è la vita I tre specie di triangolini sono il teletrasporto Che ci facciamo piching e teletrasportare tre volte avanti e indietro E adesso abbiamo la pistola, possiamo sparare Dopo un po' l'arma si ricarica Abbiamo un super potere con... Uh, qual era il tasto? Questo Adesso abbiamo un attacco d'aria attorno a noi E un buco in centro? Si abbiamo creato un buco in centro E pian pianino ovviamente ci sbloccheremo le varie abilità Venga assistente Non mi ricordo più i tasti Vabbè vabbè abbiamo giocato un minuto e mezzo giusto per farci il tutorial Ok No, da qui siamo al sicuro No aspetta Siamo al sicuro Dove va? Mi lasciamo a quei signori? Oh cominciamo a sparargli Magari li finiamo da cosa? Ah 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 Assistente una mania la vorrei Allora andiamo dall'altra parte Ok Uh, ho trovato il fucilo faigo Ho finito Ok Possiamo parlarne Voglio ancora fucili faighi nella mia vita Perfetto E per i cammini ogni volta nei livelli trovate nuove tecnologie che ci aiutano a essere più faighi nel gioco È un giochino strano ma mi siamo detti Perchè no? Ci abbiamo voglia di far fuori creature di Lovecraft Proprio così Una necessità che ci è venuta all'improvviso E praticamente abbiamo la mappa del gioco che si svolge per l'altro su tre piani esistenziali Il piano normale Il piano etereo È il piano di Eldrick Non so cosa voglia sia Proprio di roba che riguarda Lovecraft o altro Vabbè, dai Facciamo una provettina Vediamo un po' cosa riusciamo a sbloccare Più che altro è il tipico gioco per casteggiare un attimino Nella Buongiorno Questo indicatore Indica il progresso nel livello Ah dobbiamo far fuori le orde di nemici Ok Ok Potrebbe essere un problema Aspetta 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 Vai di coso? Che abbiamo un mitragliatore Lo volevo prendere io Il problema è che non ho la mira Assistente Dobbiamo farli fuori prima di spawn Cos'è? E questo ci mostra quando sblocchiamo un livello E ci dà alcune abilità faighe Ok Va bene, va bene, va bene Le ve lappiamo dopo Siamo un attimino impegnati malo malo Ok Ok, ok Dobbiamo uscire ancora 27 Sì, vabbè Sì, vabbè Che faccio? Level up io? Level up Ho finito l'abilità nuova Ho finito l'abilità nuova Ho visto la bomba, ho visto la bomba Ho visto la bomba, ho visto la bomba Arriva, 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 arriva Ok Ne possiamo parlare Dove sono? Provo a fare un level up Aspetti Ok Ah Qua ogni volta che le ve lappiamo Può scegliere un'abilità 25% di evitare di essere colpiti Ogni volta che riceviamo un power up E tutti ne beneficiamo Quindi non solo uno Uh Ok Mi piace, buono Condivido Ah, riceviamo il 30% di power up O aumentiamo il tasso di fuoco I power up avrebbero comodi Sì Secondo me, ok E? Meglio la vita Meglio la vita, sì Buono Quindi ogni volta che le ve lappiamo Dobbiamo ricordarci di Andare a prendere l'abilità Buono No Non ci ho capito una ciolla Però abbiamo fatto un po' di danni È il tipico gioco molto casinistra Uh Abbiamo trovato una parte del mech di tesla Oh Io te l'ho detto Non sapevo qual era power up Non si casi Non si casi Aiuto, aspetta, vado di nuova Vado di nuova Io non ne ho fatti fuori tanti Ok, ok Vado di level up Aspetta, vado di level up Velocità extra o power up Andiamo di power up Adesso, ok Abbiamo già level appato Abbiamo già level appato Aspetti, aspetti, aspetti Facciamo di power up per tutti Ok, ok Prendo una cosa bella Cos'è? Non ha l'abilità nuova No, non ha nuova E il resto lo proviamo Ok, aspetta, aspetta Vado ancora di nuova Buono Oh mio dio, aspetta, aspetta Aiuto, aiuto, aiuto Aiuto Ma ci muoio male Sono bloccato un angolino Aiuto Ah, 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 ah Mi hanno quasi ucciso Madonna che casino Madonna che casino Madonna che casino Qua c'è la vita Dietro la tomba di là Aspetta, 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 aspetta Arrivo, 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 arrivo Aspetta che mi curo Aspetta che mi curo E anche qua però Ok, aspetta, aspetta Madonna Devo levarmi di qua Devo levarmi di qua Aspetta che c'è un power up Aspetta che c'è un power up Più vita Più vita per tutti assolutamente E velocità extra Così siamo più veloci Buono Ok Quindi beneficiamo tutti della vita extra Si dovrebbe essere curata anche la assistente Ah, dobbiamo fare fuori la cosa Aspetta, aspetta, aspetta Prendiamo il mitragliatore Prendiamo il mitragliatore Fai fuori il portale di Cthulhu Perfetto Io vado di mitragliatore Proiettili esplosivi Ok, col fuoco Oh mio Dio, che casino Ui, l'ho preso adesso L'ho preso adesso Spararlo come non ti fosse domani Buono, buono, buono Mattone, che casino Ok, stavolta siamo al cimitero E che la testa dovremmo andare Ecco cos'è quello No, è amico suo Amico suo assistente Petti, petti, petti Continua a girare C'è revolver, c'ho l'evolver, petti Ok, col revolver dovremmo riuscire a fare un bel più di danni Uila, cosa ho trovato? Anche le revolver? Sì Più power up Più power up assolutamente Ok, ok, ok Oh, direi power up Ma sei stronzo Vado assistente, power up pone Vado di... Veloci tappo No, questo I proiettili hanno un raggio più barco Allora vai Ok, buono, 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 buono Ehi, buoni Madonna, ho sbagliato il tatto Fucile Guardi gente, guardi gente Petti, petti, petti E papam Madonna gente Mamma mia Mamma mia Cthulhu non ti sopporto più Ok, via Uila, ve l'attacco Multikill Buoni Io ci sto per morire Mario Aspetta con lo scudo Scudo, 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 scudo Ok Dovrebbe proteggermi dai danni per un po' Prenda lo scudo, prenda lo scudo qua sotto Arriva, arriva, arriva Ok, 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 ok Aiuto, 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 aiuto Ho ancora una nuova La uso, diavolo Siamo messi male Ok, è arrivato Oh, il là È arrivato il portale di Cthulhu È arrivato il portale di Cthulhu Abbiamo dei power Oh, pazzo del mech Trovato Trovato, trovato, trovato Trovato, quindi in teoria adesso dovremmo avere tipo il robotone Figo Che diavolo era quel nuovo mostro Un dragon Un dragone Olè, adesso abbiamo il mech di Tesla Siamo nella foresta incantata Ma stiamo passando Oh, madò, cos'è? Ce l'ho io, ce l'ho io Ok Perché? Lo volevo io Mi resti dietro assistente, la proteggo io Ok, arrivo Oddio, assistente venga Non incasinarti però Ho perso il mech Credo fosse temporale Ok, non lo so Ci sono, devi ritrovarli Dobbiamo ritrovare le parti del mech Per attivarlo Ok, ok, ok Petty, 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 Petty Mi ho trovato, arrivo Attivi, attivi il mech Ok, le gambe le abbiamo trovate Aiuto Bomba Attento Ui, bella pacca Che casino hai fatto Vabbè Petty, Petty che abbiamo un po' di level up Ehm Piaremo più velocemente Più vita sicuramente Ehm Più vita sicuramente Che mi sa che qua ci potrebbe far comodo Petty, Petty che c'è una parte qui Presa Presa Ma è pronto Va da lei, va da lei Ok, assistente Mi protegga tantissimo Aiuto Aiuto Stami dietro Ehm Volentieri Volentieri Io la sto molto in parte, assistente Ok, ok, ok Boh Com'era? Sei divertita? Bellissimo Ok, 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 Petty, Petty Potiamo fare questi a Prendo il level up Ehm Velocità extra No, più vita ancora No, facciamo il movimento Ok E più cose Perfetto Allora, vi lascio un po' più di fornimento Arrivati, arrivati 3, 2, 1, via E' arrivata tanta gente anche Oh mio Dio, era tanta tanta gente Dobbiamo fare fuori ancora 65 E vabbè E vabbè E vabbè Ok, va bene Ci penso io Altra parte del mech Cosa fa? Rallenta tutti Possiamo rallentare i nemici? Ok, dobbiamo far fuori il tuo portale del menga Ok, ok Ora non possono più deletraportarsi in teoria Dobbiamo far fuori questi Ed è fatta Siamo rallentati anche noi E vabbè Così abbiamo anche più tempo per fare cose Aspetti, effetti che ho visto cose sotto Aspetti, effetti Con questo spariamo più velocemente Si è formato un altro portale? Si Porco cane Bomba, attento Aspetta, sono morto? Non lo so Si, sono morto Porco cane Assistente, resta lei Il mech pronto Mech pronto Vada assistente Vada assistente E li sfraccelli tutti Bellissimo Oh mio dio È partito col mech Ok Ok Mi sta prendendo bene Oh mio dio Mech di nuovo Bastardo, sempre tu Ma perché sei pirna della storia? Sono il protagonista del canalo Aspetti che gliene faccio fuori un po' Madonna, questi sono grossi Stia lontano Stia lontano Ah, ah E vabbè Sono ragni Sono ragni Sono ragni Sono cuccioli pucciosi Ok, sono ragni Vado a prendere l'arma Aspetta rallentiamo il tempo Perfetto Ok, c'è una parte del mech qua Aspetti, petti, petti, petti Petti, petti, petti E la prendo io, ok Cos'è sto rospo? Schifoso Troppi casini, troppi casini Cos'è quella roba? Aspettichiamo di servicini Doppi punti Doppi punti Buono, ok E vabbè ma sono troppa gente Vai indietro, vai indietro Aspetta, 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 aspetta Cura C'è la cura qua Me la prendo io, scusi ma sono messo malissimo Ci serve un'altra parte, ci serve decisamente Un'altra parte Vai nuova Ok, il power up è là sopra E il pezzo è là sopra Sopra? No, ok Preso Vado di mech, vado di mech Vado io? Vado io, ok Ok Resti qui, resti qui, resti qui C'è come di farli fuori il più possibile Vai no, punto su, punto su Aspetta, 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 aspetta Madonna, madonna Ok, 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 ok Che casino Ok Perso ma ne basta la pena Ok, andiamo a prendere le parti E i power up Arrivo, vado a prenderla Una spada nuova, cos'è? Ah, è la nuova abilità Quindi non ho più le nuova adesso Quindi si faccia così Sì, hai la spada Bellissima, adesso c'ho la spada che fa le cose fai Là ci sono i colpi fighi Vado a prenderli Vado a prenderli Vado a prenderli tu, vado a prenderli tu Ho sbagliato No, 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 è un problema, è un problema, è un problema Ok, ok Parte del mech, parte del mech presa Ui, no, siamo partiti L'avevo fatto? No, volevo usare il mech un secondo L'ho partito bene Sono dei ragni No, era un impressione Vai via che schifo Non è che sono bellissimo Oh, adesso... Somma Ok, sto cominciando a prendermal ... Ma forco Cavot Ma tu? Ma sì, ma non si rompia un po' le scatole E mi faccia essere il protagonista All'inizio non sparare subito Perché ho notato che muore subito Aspetti, ma non è, credo sia a tempo Oh madonna, sì, e vabbè Multikill, perfetto, arrivo, arrivo C'è uno scudo qua, aspetti che prendo lo scudo Ah, mitragliatore Ok, ok, ok Sì, ma che casino McReady, vada lei, vada lei Ok, aiuto, aiuto, aiuto C'è la vita lì Aspetti, la prendo, la prendo, la prendo, non me la prende Ah, ho la vita al massimo Bomba, scusi, non l'ho vista dopo Sì, è onestamente finito in mezzo per botta di culo Aiuto, aiuto Che brutto Che pacca non ha tirato, assistente C'è una parte del me qua C'è una parte del me qua Oh, mi ha ridotto la nuova abilità Aspetti, c'ho la spada faiga adesso Ok, proiettili infocati C'è Cthulhu Arrivo al portale, arrivo al portale Aspetti che c'è un time warp, così siamo rallentati Riusciamo a sparare più tranquillamente Buttiamo giù quel cavolo di port... Che pacca Chi è stato? È stato io? Sì, hai trovato in mezzo a strada Mi sono neanche reso conto Ok, perfetto Buono Dovrebbero anche arrivati i rifornimenti E loro avranno molto più difficoltà Le ve l'ho completato Mio Dio Che sono quei nuovi schifi che arrivano Ma sempre lui? No, si lamenti Che è il pirla della faccina E danno il me qua a quello con le... Che non riesce neanche a mirare le porti Oddio, roba che spunto No, 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 no Oddio, oddio Ecco che ho perso il mech Sono un utente Arrivo, 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 arrivo Le ve la fiammota in un secondo Perché in un giro Sì, sì Deve la faro in due secondi Ma no, 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 male Sono incontrato Mitragliatore, morite Io, mitragliatore, lavorate Fatti io c'ho il fucilo Meglio che niente Aiuto Troppo iscritti Non sono iscritti al canale, lo giuro Sono iscritti No, ok, me ne vado via Aspetti, vado di bomba Troppo iscritti No, troppa gente Aspetta, aspetta, porco Ok, level up, level up Oddio, che casino Spariamo più velocemente E più power up Sì Chi servono di sicuramente i power up Ah, 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 vai via Mi fai schifo Mi fai schifo Cosa ha fatto? Ho trovato letter disc Vediamo cosa fa Uh, bellissimo È un disco rimbalzante Sì, solo che non capivo Sarò io o lui Ah, ok È roba blu È mia Non si fa Madonna, che casino Però non uccide Ma li danneggia tantissimo Sì, ma è troppa gente Io mi tra gli attori Fatti c'è una parte qua sotto Oh, prendo io Ah, no, era Troppo iscritti Era un'abilità in più Troppo iscritti Aspetta, aspetta Vado di spadina figa Vado di spadina No, dove faccio il muoio male Ho bisogno di vita Ho bisogno di vita Anch'io Ah, troppo iscritti No, troppa gente Aspetta, rallentiamo il tempo così Bomba Bomba? Vada di bomba Non era una bomba Non era una bomba Ho confuso malo Ok Mech Aspetta che rallento ancora per un po' il tempo Ho rallentato ancora di più? È ancora più lento di prima Assistante Mi cura io Ah, vado di level up Più vita Io la voglio E più vita ancora decisamente E il terzo apporto più rapido Ok Ora riprendiamo la fortità Tutti nostri No, no, no Ok, brutta zona Bruttana 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 Oh, cos'è? Nova Mi ha riuscito Oddio, è uscito Cthulhu È uscito Cthulhu? Perfetto Vipro io faccio il muoio Troppo male Ok Moriteci Ho finito l'abilità Aspetta il level up E spariamo più velocemente Vai Dov'è? Là in fondo Ma porco cane Vai Manca solo la parte sopra Aspetta Aspetta, aspetta Lo prendo io Lo prendo io Va da lei Va da lei Va da lei Va da lei Ma non c'è nessuno? Come non c'è nessuno? Ma sono lui? Ma no, ma come? È rimasto chiusissimo Ma no, io il mech lo volevo Ciao assistente Arrivederci Ma perché? Sono quello più faio Che cos'era? Buono, buono Eccolo qua Che è arrivato il figo di turno Assistente comincia a prendere parti Comincia a prendere parti Che ci serviranno tantissimo Ragno, ragno Non è un ragno Un'impressione È l'uomo ragno Spider-Man Spider-Man E ho perso di nuovo il mech Porco cane Datemi un power up Oh, la pistola nuova di Tesla C'ho le armi laser fighe Con permesso Buongiorno No, no, scusa No, i ragni No, dai Mi fanno schifo anche a me Non come l'assistente Ui Ma credi? Vada lei Vada lei Vada lei Ok Li faccio pure tutti Aiuto, aiuto, aiuto Aiuto, aiuto Io prendo un po' di abilità nuova intanto Wazunde 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 Se non dici Wazunde Wazunde aumenta il potere Ragni è morito Petti, petti E' tardi E' tardi E' vabbè E' vabbè Petti, petti Eh, che cos'è? C'ho il rimbalzino faigo Porti pazienza Ah, c'è una porta del Mac C'è una porta del Mac Petti, 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 petti Ok Bomba, 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 bomba Dove? Uila Maccone Ce n'è ancora una Ce n'è ancora una Petti, petti, petti Presa di Uila Mac Mac Ma vada lei Vada lei si sente Io tanto ci vedo sempre all'inizio del gioco Ok Spari tanto rapidamente Che ci servirà un bel tantissimo Bellissimo Mac Petti, petti, petti Prendo Bomba Doppia esperienza E Dovrebbe avere ancora qualche attacco faigo Proviamo a vedere Rallentiamo il tempo assistente Prendo la porta del Mac Vado io Oh oh Putale di Tulu Ho vinto Gli butto giù Gli butto giù Gli butto giù Ok Vada, 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 vada Madonna santa La gente c'è stavolta Credo siano gli ultimi Mi sparano lì Bomba Bomba Ok Porti Perfetto Arrivederci assistente Il mio popolo bisogna di me Abbiamo un altro cristallino Perfetto Ce ne sono solo altri 8.022 No, mi prendo sto gioco Non ci capisco una ciolla di niente Ma mi ha preso benissimo È l'isola della Lash questa L'assistente va sempre alla Lash Di piacere i cosi profumosi Alla, se io riesco a evitare di subire danni In teoria Eh sì Questa è piccola come mappa L'assistente questa è piccola come mappa Porco cane Piri, piri, piri Cos'è? No, no, no Ti mando macchia vomitone Ciao Cos'era quello schifo Muore No, vabbè Troppa gente Troppa gente Abbiamo fatto fuori quello con le armi laser Assolutamente Sì, ciao Buono, buono, buono Ok Cos'è? Ho trovato Cos'è sta Buoy, nuova questa Cos'è? Cose luccicose Che fanno cose Le robe luccicose Non lo so Ma le prendo Vado io di me Per te sega Se ho voglia di sfraccellare Madonna Ok, non è stata una buona idea Non è stata una buona idea Si sente come messa? Tranquilli, tranquilli Ok Oh, dove sono? Oh, sono dietro di me Non li vedevo Ok, 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 ok Petty Aia Petty, 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 petty Il prossimo mech glielo lascio a lei Sono stato un po' ingordo Lo ammetto Sono sempre ingordo Non mi lasci mai niente Non è vero Non è vero Parte del mech Esperienza doppia Ok, ok Scudo Va a prendere la parte del mech Prendere la parte del mech Oh, no, no, no Sono arrivati i cthulhu laser Sono arrivati E io qua ci muoio male Ma no C'è un'altra parte del mech Vada lei, vada lei, vada lei Qua? C'è? C'è, vai, perfetto Ok Disfracelli tutti Aiuto Aiuto Sì, stai mi protegga tantissimo Ok Buona Già preso il mech Ma come? Quanti danni fanno questi tizi? Esperienza, vedete Prendo io la parte Bomba Un movimento sensual Ok Buono Finalmente Finalmente C'ho le cose faiche No L'ha presa lei Che dove l'ho presa io Vai, vai Uccidi Che io Aspetta, c'ho le armi laser Quanta gente manca ancora Oh, c'è il portale di stulhu Non l'avevo visto Eh Mac Lo faccio fuori Lo faccio fuori Andiamo di mech Vada di mech, assistente Ok, ok Dovremo averli fatti fuori tutti ormai Mac Rosso No, va via lei, assistente Mi lascio qua No Ma come? Ma no, ho presissimo Mi date un pizzico di trama? Ma che trama? Qui è solo per sparare Il gioco in accesso anticipato, peraltro Ah, c'è anche l'enciclopedia dei mostri I nuovi mostri Bellissimi, eh? Non mi sembra un simile No, è un po' diverso l'immagine, in effetti, eh Ci hanno trollato Ah, questi giochi in accesso anticipato Ok, ok, andiamo avanti Oh mio Dio Qua c'è acqua di nuovo Deve stare attenti E che sto cavolo di mech C'ha veramente uno scudo del Mega Le stelle si allineano in 91 secondi Non so cosa vuol dire Oddio, sta per arrivare Cthulhu? Ah, non sono preparato Devo ancora farmi la manicure Assistente, mi porti dall'estetista Che ho bisogno di farmi bella Per il signor Cthulhu Ma il signor Cazzo di Lovecraft Doveva proprio venire a rompere le balle con Cthulhu Lui con le fissazioni strane per i tentati Cos'era? Madonna, sta sparando gente ovunque Eh, eh, eh Munizioni Munizioni infocate le prendono molto volentieri Ok, aspetti che le ve lappiamo Cos'è? Le munizioni sparano un proiettile in più ogni volta Cioè, come funziona? E' più power up per tutti Sì, è vero, sparo doppio proiettile anch'io Oh, fichissimo Abbiamo 39 secondi, assistente Non so cos'è Un intragliatore, non lo so nemmeno io Petti, petti, petti Deviamo andare di armi E fare i più danni possibili Vai, mech Ok, lo prendo io, lo prendo io Perché sono messo malissimo di vita Fuggirezzo Ok, oh madonna Madonna, quanta gente E vabbè, e vabbè, e vabbè E vabbè Ok, per fortuna Cos'è quella roba là? La voglio io Cosa, cosa, cosa Cosa ho fatto? Eeeh, una nuova abilità Spark dovrebbe essere La tesla gun, ok Mi dica che mi posso Oh mio Dio, cos'è? Cos'è? Non lo so, credo sia un mostro nuovo che è arrivato Io il mostro nuovo non lo voglio Cos'è? Cos'è? È bellissimo Oh mio Dio, oh mio Dio Sì, ma qua ci muoio Sì, ma qua ci muoio Aiuto, aiuto Lo scudolo lo prendo volentieri Ah, qua ci sarà un mic nuovo Aspetti che level up Cos'è? Ci dà una nuova arma Cos'è? Mi funziona l'arma Cos'è? Non mi funziona l'arma Ah, aiuto Non mi funziona l'arma Non mi funziona l'arma Non mi funziona l'arma Non mi funziona l'arma No Eh, dico Qua devi avvicinarti Ah, funziona da vicino? Sì No, non l'avevo capito Vabbè, il tizio c'è morto Mi ha one shotato tipo il boss, assistente Sì Mi ha avvicinarti e lui spari in automatico Buttava fuori l'elettricità Ah, non l'avevo capito Vabbè, giusto Tesla è fissato con l'elettricità Ok, vabbè Sì, ma non possiamo arrivare Che c'è subito la gente che mi attacca Sono una personcina Che ha bisogno dei suoi spazi personali Aiuto, aiuto, aiuto Aiuto, aiuto No Statemi lontani Parpeggiate l'assistente Che l'abbiamo per quello Ok, come l'ho detto Assistente, lei non mi riscuote il successo Fra i mostri di Lovecraft Voglio essere onesto Ah, grazie Molto gentile Fatti, fatti, fatti Ok, stiamo prendendo Eh, vabbè Aiuto, aiuto Vai di nuova Ok C'è un'arma là sopra Vanno bene C'è un fucile qua Cos'è? Cos'è questo rumore molto Eh, credo sia quella di testa Credo sia quella di testa Fatti, leve lappone Proietti di carriera più grande E Teletrapportatore, dai Ok, ok, ok Cos'è quella roba? Ho già arrivato Non lo so Non lo so Non lo so C'ho paura E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè No, mi devo curare Mi devo curare Curati Genius Assistente Assistente mi viene a dare una manina Li hai portati tutti da me? Sì, praticamente sì Era il mio copo Per quello stavo cercando di raggiungerla Aiuto Aiuto Vogliono tutti un po' di una parte di The Long Gamer Quanti portali sono? No, devo giurare Ah, mi metto qua un attimino Che sono un'edificio per tutti Aspetta Non mi raggiungono qua, vero? Assistente C'è un po' di genti Fetti, fetti, fetti Ah, do di spada Li trancio tutti in due Senti come va? Questi entri ritenati nell'angolino Mi sono transe Ma non vale Mi hanno fatto la porta Leve la pone Proiettile in più Ehm Tenito a portatori più rapidi E più vita Perché ne abbiamo bisogno Come non so cosa Ah C'è un portali Tutto sotto Sono, sono tutti Sono dappertutto Ok, ok, ok Ma perché lei c'ha l'arma in file E io con le culo Aiuto Aiuto Via, dalle balle Schifosi Cos'è? Cos'ho trovato? Che cosa sono questi affari? Ah, ah, ah Aspetta, aspetta, aspetta Vado di spade Ancora Io un'arma nuova la vorrei Ma è che qua di pronto Guarda quanti portali ci sono Dove sono? Mi hanno incontrato No, vabbè Cos'è sta roba? Dobbiamo distruggere i portali Dobbiamo distruggere i portali Assolutamente No, troppa gente Troppe genti Guarda che roba Buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù Ok, buttalo giù uno Ah, grande Ok, 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 ok Però c'è troppa gente Anche col tempo rallentato È un casino farli fuori Dopi punti Ok Dobbiamo trovare il mech Eh, sì Il mech ci serve assolutamente Aspetta che potenzio Più vita, sicuro Eh, più power up Ok Aspetta Mech, mech pronto Mech pronto Vada lei, vada lei, vada lei Ma cos'è questi mostri nuovi? Aspetta che c'è il cugino di Cthulhu Aspetta che bisogna di un'abilità nuova Ok Vado più young Quanti portali ci mancano? Vado distrutto Perfetto Ok Guarda che schifo L'ho rallentato L'ho rallentato Lanciano delle maledizioni È vero No, lancia degli schifi Delle specie di forme di vita nuove Aspetta Ok, fatto fuori E adesso guarda Cosa fai? Cos'è? Fuoco Bellissimo C'è un altro portale di Cthulhu da fare fuori? Altro fuoco Aspetta, aspetta, aspetta Ancora spada di Xenoblade qua Eccolo qua, eccolo qua Eccolo qua, eccolo qua Ok, ok Guardi, fatto fuori Guardi, fatto fuori Perfetto Ok Mancano un paio di mostri C'è un pezzo di sotto No, ma manca solo un mostro Si stende, manca solo questo mostro qua Aspetta, aspetta Vada Ok Adesso Di certo direi che Adesso è uscita Sì È uscita in bene lo stile Oh mio Dio Questa è stata difficile Mio Dio 8 ce ne è andati E ci credo Porca di quella porca Abbiamo sbloccato una Una quest secondaria Mi sa che ogni volta che completiamo Uno di quei cose lì Ci dà Novi cristalli Il fucile di Tess Davvero è proprio Bellissimo Sì Ok Eeeh Boni un secondo Sì ma non si può Sì ma non si può Eeeh Quel nuovo fucile Hai trovato il fucile? Sì nuovo fucile Bi-jum 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 Fa bi-jum 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 Ti aiuto però Prenda qua Ce n'è uno qua sotto Ce n'è uno qua sotto Ah l'ha preso anche lei Perfetto E abbiamo sbloccato Il nuovo fucile di Tess Ce l'ha detto Madonna Più 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 Sì vabbè Ma che ne sapevo Esce da lui solo Porco cane Guardi che non le faccio guidare il Mac la prossima volta E se non si comporta bene Ma anch'io voglio andare al Mac Ma no al Mac Adesso c'ho voglia di un McDonald Anch'io sinceramente Assistente sia buona Sia buona Temporale Ok Ho trovato Aspetti che faccio un nuovo tanto Perché sono un coglione anch'io Ho trovato Aspetti Assistente Le regalo un Mac Si diverta Vada di Mac Vedo Aiuto 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 Mi proteggi Uila Stiamo sbloccando anche abilità secondarie Oh Starman non è male È un po' lentino C'è un Tulu là in fondo Arrivo Vado prendo io lo scudo Cosa fa? Lancia cose adesso Tulu Oh si? Come? Da quando? Da adesso Perfetto Grazie signor Tulu È stato un piacere conoscerla Ok 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 Madonna Madonna Petti Petti c'è un perk qua Cosa ho trovato? Perk di tua madre È bellissimo Cosa sto facendo? Non lo so Tanti danni C'è un portale qua sopra C'è un portale qua sopra Ok vai giù vai giù vai giù Gli stiamo facendo i big danni comunque Sì cavolo di cosi eh Ah sono partito così per conto mio Eh mi è tuo mech Sono andato a prendermi un po' lino Altre 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 Perfetto Mi scerci con questo mech E credo che ogni volta che le valapiamo E poi per gli aumenta i danni che facciamo Quindi dobbiamo farli fuori per fargli più danni La logica di questo gioco è strana Olè Buongiorno ragazzine Ma non è giusto Io voglio Voglio una petizione Ma perché petizione? Una petizione iscritti Aiutatemi Le lascio i ragneti Mi fanno schifere Vai via vai via Vai via Repulsione Cosa faccio? Se li butto via Oi Bella Fa pam Quando ti piacciono gli insetti Eh giusto Li lanci A me li lanci Si lamenti Cos'è? C'è un ragno strano C'è un ragno strano Perché ci sono ragni normali Sì c'è un ragno strano Alla vita Alla vita Alla vita Allora è un boss Allora è un boss Aspetti porco cane Vai via ragno Prima sto cosa non serve a niente Lo prende anche lei Così li può sparare in giro Ma cosa? Ed è Puoi buttare via i ragni Quando non le piacciono Pop pum Via i ragni Ah anch'io Manda via ragno Troppi schifi Troppi schifi Aspetti level appino Proiettile in più E Più vita assolutamente Dimelo quando riparti Basta Non lo posso sapere io Sono un bambino stupido Ignoranto Ho visto Non vi Petti 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 Ok Mac ready Vada lei Vada lei di Mac Non mi piacciono i ragni Non noi ne erano Ce l'avevamo accorti Non mi piacciono i ragni Non dico nulla Non dico nulla C'ho paura dell'assistente io Adesso Cosa sta facendo Guardi che si riscalda Sta per Oh madonna Oh madonna Aiuto 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 Aspetti che c'è la spread gun La pistola dello spread Ho trovato No Ho perso la gamba Aumenta lo spread E la crisi Ok 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 Buona Ragno Pezzo del mech Pezzo del mech Vai via Non ti voglio Perché sempre da me Perché sempre da me Sì vabbè Eh vabbè Aspetti che mi serve l'abilità Aspetti che mi serve l'abilità Ok guarda Dovevi sparare Le luccichine Sparo cose luccicose Tesla ha inventato cose fighe Colori Fanculo Vedo io di mech stavolta Aiuto aiuto Guarda che macello E vabbè Aiuto Aiuto E adesso coloriamo Cos'è Sono dal tonico Non riesco a apprezzare La sua colorazione Trovati Assistente del desiderio esaudito Non li volevo Aspetti aspetti Level appino Power up per tutti E più vita Per tutti E proiettile in più Ok Buono La parte del mech No vabbè No vabbè Cos'è Che non ti ho fatto La trovo io La prenderei pronto No come livello completato Ciao assistente La lascio qui Vado al mech da solo Ma perché Altri due Anzi vado al mech Con il mech da solo Aspetti secondo me Possiamo potenziare il mech Adesso Ce ne manca una Non ci credo Ce ne manca una Aspetti qua c'è un'abilità Ha una carica in più Per le abilità Quindi dureranno il doppio Ma chi No vogliamo il mech Vogliamo fare i fighi Con il mech Anche perché Stiamo registrando da tempo E ormai ci avviciniamo Alla fine Dico di questo episodio Quindi mi sfogo un attimino Sulle genti Aspetti 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 Alla vado Vado di nuova E de novo E de novo De nova E de novo De nova Sì vabbè Brutta mappa Brutta mappa Qui si resta bloccati tantissimo No Nuke 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 Ok fatta Fatto C'era un buio Vabbè Guardi C'era la gente No Ho bagnato C'era un signore Incastrato Aspetti Aspetti C'è una parte del mech La sotto Presa E un'altra parte del mech Qua Io cerco di prendere le parti Adesso ti faccio un favore Ok Mi rallento il tempo Così ho più tempo per scegliere il panino al mech Ok Amato E vabbè E vabbè E vabbè Aspetti che c'è una cassa C'è un po' di genere Proiettili infocati Proiettili infocati L'avevo già preso Aiuto Ah sì Sì Ok Dovremmo farcela Dovremmo far Mega kill Cosa stiamo facendo Non mi temo È che io ho le armi Sfiga culo Oh Perfetto Ma è finita Guardi C'è archito per l'assistente Giuro E' bello Sai qual è Tutto sto casino Non c'è dato neanche un cristallo Un cristallo Lo voglio Mi hai fatto venire veramente Voglio andare al mech No lo so Mi dispiace Mi dispiace Avanti l'ultimo livello E poi le compro un mcdonald Davvero? Non è vero mai nella vita Intendevo un big mac al massimo Sono povero Ma c'è come la pubblicità Quella che era il nipotino Che la nonna gli dava i due euro E lui li spendeva dal mcdonald E gli faceva i big pranzi Ma non è vero mai Sì infatti le nonne mentono No è la nonna tirchi In realtà Sei antipatico Arteriosclerotica In realtà è la nonna tirchi È stronza Sei antipatico Sto andando a prendermi l'arma Davvero? Non me ne ho accorto Giuro Si prende le armi sfigate Con i proiettili Oh perfetto Sapete che c'è una parte del mc qua Ah un'altra parte del mc anche qui Cane assistente aiuto Barillo esplosivo Vada di barillo esplosivo assistente Io ci provo Esplode Esplode Non so cosa mi sarei dovuto aspettare in effetti Ok Mi avevo completato Oh mio dio Mi date un cristalli Due cristalli Così finalmente possiamo potenziare quel buio di mc Che non ne potevo più C'ho veramente anch'io voglia di mc Il McDonald Basta Voglio essere onesto Giuro vado a prenderlo Non ho detto neanche tosto Per quindi sia buona Ok Giuro vado a prendermi un panino Ma come Ok perfetto Abbiamo un upgrade del mc Dovrebbe durarci un po' di più Ah ma Sono progressivi Il prossimo costa 45 Sì vabbè ma siete effettenti Vergognatevi Ok È un gioco Leggermente casinista Però ci ha fatto sfogare un po' di rabbia Sì E venire una fama assurda Sì in effetti è vero In effetti è vero Carino però Carino però Il signor Cthulhu mi sta un po' sulle balle Ammetto Fateci sapere cosa ne pensate Non del signor Cthulhu Supportate l'invenzione Del signor Tesla Poverino Che ha speso una barca di euri Per costruire tutte quelle robe elettriche E poi gli sono state rubate Dalla Duracell I coniglietti della Duracell Mi sembrava coniglietti Appunto sono creature di Cthulhu E in realtà Cthulhu possiede la dura Ce li dico io E problemi di Cthulhu No è che c'ho la gola che sgracchia tantissimo Quindi lasciate un bel mi piace Continuare la serie Conditevi E noi ci vediamo Nel prossimo episodio E Ci sarà tanto Tanto Il bestemmia Si tanto 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 E ricordate Vota per Tesla Per un anno Con più elettricità Per tutti Mi pagano Tantissimo Si si I nipoti del signor Tesla Mi hanno chiesto la partnership No Fra un pochettino Ti telefono E faccio salve Ora ci deve scape No ci deve scape Perché ha detto Il nome Tesla Maledetto mondo Ciao ciao